anche la cosa unificante dell'improvvisazione ci sono tanti stili ovviamente però quello che propongo io che propongono tanti altri miei colleghi è quella di usare la voce come strumento cosa vuol dire usare la voce come strumento di non usare i linguaggi in pratica è un è un linguaggio universale famoso esperanto è la musica è chiaro quindi questo permette di abbattere un sacco di frontiere linguistiche anche religiose e questo permette davvero di incontrarsi per strada con persone di diversa etnia e di condividere la stessa gioia del canto quindi vedete che ha veramente degli aspetti benefici e pacifici l'improvvisazione che dovrebbe essere proprio inserita nel recovery plan come attività sociale per il sostegno della gioia di essere insieme agli altri